Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vado a fare una maschera scrabbante su Alessandra Over 50. Andiamo a rinnovare le sue cellule del viso. Utilizzeremo il famoso bicarbonato di sodio che va anche a disinfettare a tante proprietà e la crema nivea per non renderlo troppo scrabbante. Potete utilizzare la crema che volete. Quindi mettiamo un pochino di bicarbonato, prendo un po' di crema nivea, la vado a passare nel bicarbonato e ora la vado ad applicare sul viso di Alessandra. Ammorbidisce tanto la pelle, vero? Ti ricordi? Sì. Avevi appena lavato i capelli? Ho fai dita. No, ma non ti ne ho ancora sportato, il problema è che... Te ne riesce a cuarti il viso che adesso ti metto una crema. Ecco, come premio per essersi fatta mettere la maschera andiamo a mettere un contorno occhi e il sera l'acido ialuronico. Adesso abbiamo fatto solo uno scrub, ripeto, potete usare la crema che volete col bicarbonato, non è necessario avere la nivea. E mettiamo questo che va a attenuare le rughette del contorno occhi e a distenderlo. Apri? 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 Questo dovrebbe riscendere anche le borse d'occhiaie. Speriamo. Speriamo di qua, guarda che è già tutto bello teso. E poi mettiamo insieme l'acido diaguronico per andare anche qua a contrastare sia le rughette che, se no possono venire, ma anche per attenemare quelle che abbiamo già. Ed eccoci qua, abbiamo idratato la nostra pelle. Bene, salutiamo e noi ci vediamo nel prossimo video.